Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Il noto studioso sembra aver subito le conseguenze di un'emorragia cerebrale e attualmente si trova ricoverato a Cesena, dove da giorni combatte una strenua battaglia per la vita. Alessandro Meluzzi, stimato psichiatra nato a Napoli il 9 ottobre 1955, ha svolto un ruolo rilevante non solo nella sua professione, ma anche come figura politica e opinionista televisivo. Le sue attuali condizioni di salute destano preoccupazione nell'ambiente da diversi giorni. Meluzzi è stato colpito da un'emorragia cerebrale e ha richiesto un ricovero d'urgenza a Cesena. Inizialmente, le notizie provenienti dall'ospedale erano permeate da un senso di pessimismo, ma ora sembra esserci una luce di speranza. Le informazioni più recenti sullo stato di salute di Alessandro Meluzzi sono state riportate da Radio Radio. Il noto psichiatra avrebbe subito un'operazione particolarmente delicata, ma fortunatamente l'intervento sarebbe stato coronato da successo, alimentando speranze per il recupero del professore. Nelle ultime ore, numerosi messaggi di solidarietà sono affluiti verso Meluzzi. Alberto Contri, docente di comunicazione sociale, ha inviato un caloroso abbraccio a Meluzzi, pregando per il suo benessere. Red R.Y., amico del professore, ha lanciato un appello attraverso i social media chiedendo prediere per il noto psichiatra. La situazione continua a evolversi, ma la notizia positiva dell'esito favorevole dell'operazione offre un barlume di speranza per la salute di Alessandro Meluzzi. La comunità esprime il suo sostegno e affetto nei confronti del professore, auspicando una pronta e completa guarigione. Partecipa anche tu commentando il video e iscriviti al canale se vuoi restare aggiornato. A presto!